Le elezioni amministrative del 28 e 29 maggio e la campagna elettorale a Ravanusa la democrazia cristiana è intervenuta a sostegno del candidato sindaco Salvatore Pitrola. Un momento importante stasera del programma politico e amministrativo che stiamo cercando di portare avanti e di presentare alla nostra comunità. Un programma è un progetto che abbia una visione, un programma è un progetto che metta al centro la comunità ravanusana e le esigenze dei ravanusani al centro dell'attenzione da parte di tutte le forze politiche che hanno condiviso questo nostro progetto di Ravanusa Aperta. Ascolto, passione, determinazione, questo stiamo presentando alla comunità di Ravanusa e su questo stiamo chiedendo il consenso. Per cui il 28 e il 29 maggio richiedo di votare la lista civica Ravanusa Aperta e il candidato sindaco Salvatore Pitrola.